e che cosa i giovani si aspettano dal nostro partito, dal partito democratico. Questa idea è venuta da un gruppo di ragazzi e ragazze che collabora con la fondazione Innova, Federico è uno dei più giovani, non è la prima volta però che viene a Cortona perché l'anno scorso è stato uno degli ultimi interventi prima delle conclusioni di Dario, e quindi diamo a lui la parola per co-presidere e coordinare insieme a noi questa fase dei nostri lavori. Federico, se vuoi vai lì, come preferisci. Buonasera a tutti, io sono Federico Macchi, ringrazio innanzitutto Radem e Marina Sereni per averci dato questa grande opportunità. Fondazione Ora è una realtà che da diversi anni lavora nella provincia di Reggio Emilia per coinvolgere con spirito critico, con attenzione e informazione i giovani sia sulle tematiche locali che su quelle nazionali. E di giovani oggi parliamo partendo da questo sondaggio di Utrend, un sondaggio con un risultato inaspettato dal punto di vista sicuramente molto positivo, ma non è un dato positivo solamente per il partito democratico, è un dato positivo per l'attuale governo che raggiunge un 47% circa tra gli under 35 e che soprattutto ha un 10% in più adesso nel 2019 rispetto a tutte le altre fasce di età. Ad esempio, sopra i 55 anni, la coalizione di governo di adesso è al 38%. Quindi se c'è un governo che deve puntare sui giovani, che è rappresentativo dei giovani e che può avere la visione, le capacità, le competenze per poter investire e poter costruire il mondo che quei giovani, quei ragazzi che adesso hanno meno di 35 anni andranno a vivere e andranno a creare da attori protagonisti, questa è l'attuale maggioranza di governo. Per creare questo mondo ci bisogna di visione, immaginare l'Italia del 2040, l'Italia che questi vivranno da primi attori e che potranno cambiare e che potranno portare avanti, partendo dalle tre grandi sfide che in questo momento l'Italia, ma il mondo, ci pone davanti. La prima è quella ambientale ed economica. Movimenti come Fridays for Future, persone come Greta Thunberg esistono perché finora la politica non è riuscita a dare fino in fondo delle risposte adeguate alla situazione ambientale, soprattutto non è riuscita a dare delle risposte adeguate a livello di sostenibilità paragonata all'attuale sistema economico. È necessario un'azione diretta da parte dell'amministrazione, è necessario che prima di tutto le persone orientino i loro acquisti, orientino i loro comportamenti, i criteri della sostenibilità e dell'economia circolare. Ed è proprio ai giovani che possiamo chiedere per di tutto questo, perché come dice Greta, è loro la casa che in questo momento sta andando in fiamme. La seconda sfida è quella della cittadinanza attiva, del coinvolgere i giovani, dell'avvicinare e di avvicinarsi giovani alla politica, ed è la formazione, formazione come antidoto alle fake news, come antidoto ai social network e ai nuovi modelli di comunicazione che in questo momento diffondono più menzogne che verità. E soprattutto la sfida del lavoro. L'Italia del 2040 non può essere l'Italia dei riders e dei figli fatti a 35 anni. Non può essere questa l'Italia per i ragazzi che in questo momento studiano e che in questo momento si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro. Queste tre sfide sono da vincere oggi. Cercheremo di ragionare insieme su come vincere queste e tante altre sfide che l'Italia e che i giovani ci mettono davanti, perché se non sapremo dialogare con i ragazzi, se non sapremo ascoltare le loro richieste di aiuto, non rinunceremo solamente a una parte consistente del nostro elettorato, come dicono i dati, ma rinunceremo al nostro futuro. Grazie Federica. Tu hai un sacco di scritti a parlare. Io non so se questi due sono tra i tuoi, che forse questo no. Questi mi mancano, come figurine panini. Questi ti mancano. Abbiamo alcuni interventi. Vai. Chiamo per primo Diego Cavallucci, 24 anni, consigliere comunale di Cortona e responsabile politico europeo ed estere di Gd Toscana. Grazie, buonasera. Allora, ho preparato anche due o tre slide, visto che ormai siamo figli delle immagini, non so dove arriveranno. Comunque innanzitutto, prima delle slide, vanno doverosi ringraziamenti a Marina Sereni, a tutta Area Dem, ai ragazzi della Fondazione che hanno lanciato l'idea di stare a sentire, secondo gli occhi dei giovani, come funziona un po' il mondo. Mi è piaciuta questa idea di parlare, perché non parleremo solamente di politiche giovanili, ma parleremo di politica vista a 360 gradi, ma con gli occhi di qualcuno più giovane rispetto a quelli che di solito la fanno. Inizio proprio con una parola strana, che purtroppo la politica spesso dimentica, è il sogno. Diceva Roberto Benigni che se ci chiedono la porta dei sogni, siamo già morti. Penso che chi di giovane fa politica come me la fa proprio per questo, perché ha dei sogni e perché vuole combattere per realizzarli. Uno di questi, il mio in particolar modo, è legato alla riuscita del sogno europeo. Per me è ancora un sogno che va perseguito come partito, non va sicuramente lasciato indietro. Ecco, li vedo anche di qua. Non va lasciato indietro perché dobbiamo combattere contro questi tre tizi che sono addirittura anche in altra buonissima compagnia. Li vedete là, Marine Le Pen, quello del mezzo che è Johnson, il premier inglese, che ha addirittura avuto l'ascellerata idea, oltre che di perseguire questa Brexit, di far chiudere il Parlamento inglese. E poi il più famoso di tutti, Donald Trump, che nel mondo della globalizzazione, nel mondo dello stare insieme, richiude le frontiere dello Stato più grosso di quelli che avevano inventato la globalizzazione, rinserisce Dazzi e, diciamo così, tarpa un po' le ali allo sviluppo mentale, economico di tutto il mondo. Viviamo in un mondo reale, a scrivo, viviamo in un mondo reale perché dobbiamo capire qual è la potenza dei Stati membri dell'Unione Europea rispetto alle grandi potenze che ci troviamo a combattere. Quando si dice torniamo ad essere soli, torniamo ad essere stati nazionali, sì, bene, però siamo in un mondo in cui i commerci ricertiscono i Stati Uniti d'America, la Russia, la Cina, addirittura in questo momento stanno avanzando i BRICS, che sono i paesi in via di sviluppo grandissimi, Brasilia, India, che da soli, diciamo, fanno la popolazione europea. Dunque dobbiamo per forza, noi giovani, perseguire il sogno europeo, se vogliamo avere il sogno di fare qualcosa quindi nelle nostre terre e di perseguire gli obiettivi dalle nostre case. Abbiamo bisogno di un'Europa democratica e sovrana. Cerco di andare un po' veloce perché pensavo di essere in meno, invece siamo 11 o 12, dunque cerco di sintetizzare un po'. Democratica e sovrana sono parole strane, che le dice spesso Salvini, ma qui le uso e dobbiamo imparare ad usarle sotto un altro punto di vista. democratica perché secondo me i cittadini devono arrivare ad eleggere i rappresentanti veri dell'Europa, dunque il governo europeo è un governo vero, ci tornerò poi dopo, e l'Europa sovrana perché non possiamo più continuare a pensare di mandare avanti, come diceva bene prima il Vice Secretario Orlando, un'Europa fatta di piccoli interessi personali, o meglio, di piccoli interessi nazionali che assommandosi cercano di creare un interesse del continente ma che assolutamente di solito non ci riescono e riescono solamente a fare una cosa, quel 2 più 2 della calcolatrice che poi alla gente comune, soprattutto a noi giovani, non ci dice assolutamente niente e non riusciamo assolutamente a comprendere. Per continuare a pensare al 2 più 2 della calcolatrice e a un'Europa burocratizzata al massimo, siamo arrivati a questo. Noi partiamo nel 2000 con il 53% di italiani che amano e che credono nel sogno europeo. È evidente che se anche nell'ultimo anno recuperiamo due punti percentuali, la perdita che abbiamo avuto dai primi anni è sostanziale, è notevole e non possiamo rischiare da partito democratico, da partito di sinistra, da partito che ha creduto fin dai primi momenti nell'Unione Europea, di perdere la fiducia dei nostri elettori e addirittura ancora peggio, di far perdere agli italiani la fiducia nell'Europa perché vorrebbe dire tagliarci il futuro da sole. Viceversa, lui si fida ancora degli italiani e questo è una cosa che ci deve dar credito. Il Presidente del Parlamento Europeo è un italiano e David Sassoli, che domani se non vado in rato dovrebbe essere con noi. La Vice Presidente del Gruppo Socialisti Democratici è la Secretaria regionale Toscana, la Simona Bonafè, da poche ore nominata a questo ruolo. Abbiamo nominato un Commissario Europeo assolutamente di peso, che è Paolo Gentiloni. Ecco, ora dobbiamo essere bravi a dare una mano come partito, devono essere bravi loro a lavorare, perché la storia che noi in Europa non contiamo, come non valeva prima, perché avevamo il Presidente della Banca Centrale e tanti altri voli, non conta più. Dunque, noi in Europa contiamo, la gente lo sa, dobbiamo portare l'Europa a prendere le scelte giuste e sono sicuro che la gente ce lo riconoscerà e riconoscerà i nostri esponenti politici. Che vogliono dire le scelte giuste? Le scelte giuste sono quelle di un partito di sinistra, almeno per noi evidentemente, della famiglia dei socialisti europei. La famiglia dei socialisti europei, se tale si vuole chiamare, non può preferire l'austerità al welfare, non può lasciare indietro, io ho scritto marginazione, una parola molto forte, alcuni stati dell'Unione Europea, la battaglia e l'equiparazione, l'equiparazione dei suoi servizi essenziali tra gli stati del Nord Europa e tra gli stati del Sud Europa. È impossibile che in Danimarca ci sia asilo in nido praticamente in ogni fabbrica e che qui da noi l'asilo in nido solamente oggi riusciamo a dire che forse dovrà essere gratuito. È impossibile che la sanità al Nord Europa sia funzionale, sia pubblica, funzioni e qui da noi invece abbiamo liste di attesa che durano mesi quando va bene, forse addirittura quando si parla di screening che arrivano a durare addirittura qualche anno. Questa non è Europa, questa ribadisco è quell'interesse nazionale che ha sommato, vuol dare il senso ad un interesse europeo. E poi dopo in fondo, che è un po' il sogno di chi come me studia e crede nell'Europa vera, una scala mobile sociale europea. Se io sono figlio di un contadino italiano posso poter sognare di diventare un manager di una grande azienda del Nord Europa, altrimenti in Europa che non fa sognare questo, che non fa sperare questo, che non crede in questo, è un'Europa che non ha assolutamente senso. Cambiare non significa voler distruggere, io penso che dire di cambiare le istituzioni europee voglia dire salvarle e non distruggerle, perché come sono ad oggi probabilmente non andranno molto lontano. e dunque per arrivare al sogno dell'Europa federale. L'Europa federale che elegga il Presidente dell'UE, scusate, ho sbagliato il bottone, che elegga il Presidente dell'UE, che abbia una politica economica unica e che, come diceva prima il Vice Secretario Orlando, riesca a creare liste paneuropea e meglio ancora, come diceva lui, saranno partiti di matrice europea. Un breve accenno sulle migrazioni, se non me lo consentite poi dopo vi abbandono. Un breve accenno sulle migrazioni, che è quello per cui l'Europa viene più attaccata. Il mondo e gli uomini hanno sempre migrato sin dai tempi della preistoria, dunque è un po' un sogno per noi di fermare le migrazioni. Salto una piccola parte che questa qui regola l'integrazione, perché penso che sarà evidente a tutti che l'immigrazione deve essere gestita e soprattutto deve avere un'integrazione, se no ci si rivolta contro, come sta facendo in questo momento. Per arrivare a questo, questo è un punto che mi interessa e particolarmente, perché da giovani dobbiamo avere il coraggio che il mondo occidentale queste migrazioni le ha create. Quelli che vedete lì sono tutti stemi di aziende che sono in quei paesi dell'Africa e che gli portano via risorse, non dico sfruttandoli, ma probabilmente siamo molto vicini. Con una differenza, e per questo diventa ancora importante l'Unione Europea, sono questi cerchiettini con la stella gialla, che in leggenda vogliono dire Cina. La Cina lì non fa colonialismo, la Cina lì fa investimento. Se l'Europa vuole avere un futuro nel commercio mondiale, se l'Europa vuole avere un futuro come ente dialogante tra le grandi potenze mondiali, dobbiamo tentare di prendere quell'ispirazione cinese che valia di investire, a creare infrastrutture e non a sfruttare. I due pallini per creare la cittadinanza europea, l'Erasmus che deve essere potenziato, l'Erasmus Plus, il Servizio Volontario Europeo, ma soprattutto il Servizio Civile Europeo che con Silvia Costa più volte abbiamo dibattuto e che finalmente è diventato realtà. Tutti questi discorsi, tutte queste cose per poter dire viva l'Europa, tutti insieme. Grazie Diego. Adesso chiamiamo Maria Marta Caselli, vent'anni, studentessa della Facoltà di Giurisprudenza di Modena, educatrice in parrocchia che ci porterà un progetto molto particolare e molto personale che ha portato avanti in casa sua. Buonasera a tutti. Come avete potuto sentire non sono qui per particolari titoli o per per conoscenze mie proprie, ecco. Non sono qui per questo, sono qui semplicemente perché sono testimone di un'esperienza che penso possa essere molto utile raccontarvi. Verso la fine del 2018, erano l'anno scorso, esattamente un anno fa, si avvicinavano le lezioni europee e io e alcuni miei amici, riconoscendo che tra i nostri coetanei e anche tra di noi c'erano una misconoscenza dell'Unione Europea e anche una concreta difficoltà nel comprendere il suo funzionamento e la sua essenza, tali da rendere veramente difficile la consapevolezza del nostro voto e quindi in ultima istanza anche la sua libertà, abbiamo deciso di fare qualcosa. abbiamo pensato a un percorso, una scuola di formazione politica leggermente atipica, atipica perché come ha detto Federico si è svolta in una casa, casa mia, che ho scoperto essere in grado di contenere 60 persone, 60 ragazze anche se molto molto stretti, un po' sparpagliati sul divano, sul tappeto, sulle scale e nell'assenza di qualsiasi formalità questa era l'unica regola, benché gli ospiti non fossero proprio i primi che passavano per strada, infatti abbiamo ospitato nell'arco di tre incontri l'onorevole Pierluigi Castagnetti, l'assessore di Reggio Emilia Serena Foracchia, l'eurodeputato Elie Schlein e il professore, il presidente Romano Prodi. Persone grandissime che in modo semplice, informale, gratuito e soprattutto umile ci hanno fatto entrare nella storia dell'Unione Europea Castagnetti nei sogni dei padri e delle madri fondatori e fondatrici Elie Schlein e Serena Foracchia ci hanno spiegato il funzionamento dell'Unione Europea anche le crepe attuali dell'Unione Europea quello che va modificato quello che funziona e Prodi ci ha fatto vedere l'Unione Europea con uno sguardo un po' più da lontano ci ha parlato dell'Unione Europea nel panorama mondiale del suo ruolo del ruolo che potrebbe anche avere delle sue potenzialità seduti davanti a noi giovani queste persone ci hanno commosso e la commozione e l'ammirazione erano dovute sicuramente alle parole che ascoltavamo che erano parole lungimiranti e vere e prive di qualsiasi volontà catechizzante non cercavano assolutamente proseliti ma anche soprattutto alla testimonianza commossi dalla testimonianza che in quel momento loro ci stavano consegnando col fatto che erano lì cioè davanti a noi c'era un politico in carne ed ossa non in tv ed era seduto con noi nella mia sala sul tavolo dove io studio quindi non in una sala conferenze su un palco lontano oppure in una piazza a fare selfie abbiamo pensato tutti tutti quanti che la persona che stava davanti a noi era così politica intimamente e autenticamente politica cioè così amante della cosa pubblica della nostra polis che si era messa in viaggio era entrata in una casa e stava spiegando cosa stava succedendo le scelte politiche fatte ci spiegava proprio ci formava ci educava ecco e penso che è proprio di questo che noi giovani abbiamo bisogno ed è qui che faccio appello anche al partito democratico per questo anche che sono qui abbiamo bisogno noi giovani di politici che si occupino della nostra educazione e formazione politica cioè che e anche semplicemente che ci spieghino quello che stanno facendo e perché la banalità di questa affermazione forse è lampante ma non lo è penso la sua realizzazione in concreto possiamo certamente parlare e domandarci del perché i giovani non votino e di quali sono le differenze generazionali del perché delle cause psicologiche ed è importante per mantenere aperta la domanda però nel frattempo venite da noi e parlateci soprattutto spiegateci perché ci servono gli strumenti per poter parlare in modo consapevole per farvi richieste intelligenti e proposte concrete quindi non basta dire andiamo ad ascoltare i giovani perché ascoltarci ma noi magari non abbiamo gli strumenti per poter parlare perché non sappiamo abbiamo bisogno di essere educati quindi prima di venirci ad ascoltare o magari anche nel frattempo educateci e se qualche tempo fa mi avesse chiesto perché i giovani sono così lontani dalla politica vi avrei risposto ingenuamente perché rispetto al passato non ci sono più i maestri cioè quei politici che educano cittadini quindi un moro che aveva cuore i suoi studenti banalmente un Don Milani che rischia il carcere per la libertà dei suoi alunni la libertà civica persone che quindi ci facciano vedere tutta la responsabilità che in quanto cittadini abbiamo Don Milani diceva ai suoi alunni che tutti sono responsabili davanti alle ingiustizie cioè che tutti sono responsabili su tutto ecco adesso non risponderei più così mi ricordo bene una chiacchierata con mio nonno su questo tema e la sua risposta alla mia lamentera dell'assenza di padri di maestri e di madri e i padri ci sono cerchiamoli in quel momento mi è venuto in mente Pierluigi Elli Serena e Romano che ci hanno mostrato che i padri madri quindi che i maestri esistono e che ci sono ancora politici che hanno quelle tre caratteristiche che per me sono fondamentali per poter educarci vale a dire la competenza necessaria non scontata l'onestà verso i cittadini e l'umiltà con l'umiltà intendo la consapevolezza che la funzione che avete scelto di esercitare cioè quella di fare politica porta a essere i servitori più umili del paese e non sono tantissimi gli uomini politici che hanno queste doti sono più quelli che credono che stare vicino ai giovani significhi postare foto di cibo o farsi selfie insieme a noi nelle piazze ma non è questo che cerchiamo concludo la semplicità della nostra scuola di formazione politica è stata la chiave perché l'ha resa alla portata di tutti noi semplicemente abbiamo invitato i nostri amici personalmente chiedendo di diffondere la voce agli amici e le persone che loro sapevano essere interessate la voce si è sparsa e alla fine ecco 60 giovani in una casa a condividere prima la cena poi le parole degli ospiti e questa è però soltanto una delle mille iniziative che vengono dai giovani dimostrazione che non tutti sono lontani dalla politica che c'è ancora la concreta possibilità di attirare sempre più ragazzi fin dalla più tenera età fin da piccoli verso il desiderio di diventare pienamente cittadini e fare politica non è soltanto quella che magari noi pensiamo io penso che io conosco tantissime persone della mia età che sono attive come come educatori come educatrici che si occupano di persone con disabilità che si occupano della pulizia della città che fanno sostegno ai poveri andando in stazione a dar loro da mangiare a scambiare quattro chiacchiere questo è fare politica quindi dire che la maggior parte dei giovani non si interessa di politica è vero solo se con questo termine intendiamo le vicende conflittuali tra i partiti i litigi inutili le dinamiche basse le strette di mano a noi non ci piacciono queste cose e non è vero invece se per politica intendiamo prendersi cura della cosa pubblica e molti giovani hanno a cuore questo in realtà quindi spetta a chi è al governo tornare a rendere la politica davvero politica quindi dimostrando che significa ancora prendersi cura la prima cosa che fanno i genitori per prendersi cura dei loro figli è educarli quindi tutta questa provocazione anche per dire per fare questa richiesta a RUA di educare noi giovani di darci gli strumenti e penso e concludo che l'unica forza nell'attuale panorama politico siate voi perché tra le vostre file vedo le persone che hanno quelle tre caratteristiche di cui parlavo persone che possono essere per noi veri e autentici maestri grazie 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 Marta adesso chiamiamo il più giovane del gruppo Francesco Goracci 18 anni studente di Agraria Milano e membro dell'associazione Millennials PD potete anche avvicinarvi nel senso che buonasera a tutti mi presento sono Francesco Goracci ho 18 anni e sono nato in questa zona sono nato ad Arezzo ma vivo oramai da da sette anni a Milano mi è stato chiesto oggi di venire qua a parlare di Partito Democratico e di rapporto tra giovani e Partito Democratico certo non è un tema facile io ve lo confesso andare a parlare nelle scuole durante la campagna per le europee di Partito Democratico non è stato semplice e non è stato nemmeno semplice nell'ultimo periodo motivare quello che è successo va detto che qualcuno anzi è una cosa evidente qualcuno ha storto il naso ha storto il naso perché ha visto alcune decisioni che forse un mese fa sembravano impossibili nemmeno nel peggior incubo vogliamo eppure quello che è successo oggi è stato che si sono prese delle decisioni si sono fatte dei compromessi e io mi permetto di dire che in politica i compromessi sono necessari perciò non me la sento di criticare questi compromessi l'unica cosa che però ci terrei a sottolineare e che credo sarà fondamentale per conquistare continuare a conquistare il voto dei miei coetanei è non fare compromessi sui temi ci sono delle battaglie dei valori sulle quali il partito democratico si è concentrato molto negli ultimi anni sulle quali ha speso la propria credibilità e per le quali ha fatto molto mi viene in mente la TAV mi viene in mente l'Europa mi viene in mente l'ambiente ecco io non vorrei che nei prossimi mesi da essere un partito pro TAV al 100% si arrivasse a dire eh quasi quasi la TAV forse potremmo anche risparmiare questi soldi no questo non lo dobbiamo accettare in nessun modo perché ci siamo presi una responsabilità siamo andati al governo però di fronte a questa responsabilità dobbiamo avere dei valori a cui appendersi dei valori che devono essere soprattutto sopra al nostro senso di responsabilità in primis e sopra all'opportunità di conservare questo governo detto ciò ci sono due temi diciamo due nomini che mi hanno fatto un po' torcere il naso per carità come dicevo prima i compromessi sono necessari però il Partito Democratico nella decisione dei vari ministeri ha rinunciato a due ministeri importanti secondo me il primo è quello il MIUR quindi la scuola e l'università e il secondo è l'ambiente ecco di fronte a questa rinuncia di fronte a questo compromesso che era necessario io vorrei che il Partito Democratico non abbandonasse questi due temi vedete io credo che questi due temi sono fondamentali quando eravamo all'opposizione dicevo l'opposizione noi a Salvini la faremo nelle scuole nelle aule universitari la faremo in questi luoghi qui perché è evidente che di fronte alla bestialità di una figura come Salvini non possiamo che opporsi con la cultura vedete in Italia secondo me il quadro è molto drammatico io credo che una crisi culturale sia ancora più grave di una crisi economica una crisi economica ci fotografa la situazione attuale dell'Italia però una crisi culturale ci fotografa la situazione tra vent'anni vi faccio un esempio pochi mesi fa prima della maturità in una quinta liceo di un liceo di Milano però c'è del centro di Milano io faccio due domande la prima è quanti di voi conoscono la storia di Pier Santi Mattarella e io vi confesso che in una classe di 23 persone non c'era nessuno che sapeva questa storia e questo secondo me è assurdo e ancora peggio è la seconda domanda che io faccio ai miei compagni di classe chiedo ragazzi cercate di esprimere in parole semplici il primo articolo della Costituzione italiana come sapete la Costituzione è argomento di maturità e io penso che su 23 persone forse 3 o 4 hanno saputo esprimere un concetto molto vago ecco questo penso che sia grave sia grave e aggiungo i nostri amici i nostri oramai diciamo così alleati 5 Stelle nella scorsa legislatura hanno fatto delle cose orrende hanno tagliato 4 miliardi di euro in 3 anni per scuola e ricerca e addirittura sono venuti da noi ragazzi a dirci che dovevamo essergli grati perché loro avevano stanziato qualche milione per l'edilizia scolastica come se fosse normale che se un tetto non casca in testa a dei ragazzi allora dobbiamo festeggiare e poi sottolineo loro hanno messo questi soldi però ci sono dei dati di oggi che ci dicono che ogni 3 giorni ci sono dei crolli all'interno delle scuole italiane e questi sono dei dati assurdi ancora peggio dei dati economici poi c'è l'altro tema il tema dell'ambiente secondo me è un tema del quale non ci rendiamo conto della gravità io vi do un dato un dato che riguarda le acque italiane oggi il 61% delle acque superficiali secondo i dati Istat presentano dei fitosanitari e questa è l'acqua che noi andiamo poi a consumare e se noi andiamo a vedere i dati di 5 anni fa il dato è cresciuto del 7% questo vuol dire che questo trend è in crescita e noi non ci stiamo opponendo abbastanza perciò io quello che voglio dire è che come abbiamo fatto opposizione radicale negli scorsi mesi dobbiamo far parte di questo governo con una certa radicalità non dobbiamo avere dei compromessi sull'ambiente sulla scuola dobbiamo avere il coraggio di dire che noi i soldi che Salvini voleva stanziare per la quota 100 li vogliamo stanziare per la scuola per la ricerca per l'università perché ragazzi questo è l'unico modo per ritornare a conquistare una fascia degli elettori soprattutto gli elettori più giovani chiudo con un augurio io vorrei che nei prossimi mesi nei prossimi mesi che ci apprestiamo a vivere si metta da parte la polemica che ha caratterizzato l'ultimo mese è necessario tornare a fare politica è necessario tornare a parlare con il mondo vedete secondo me il problema più grande che ha questo partito è l'egocentrismo nel PD tutti pensano che nel PD tutti pensano che al centro del mondo ci sia solo il PD soltanto i problemi del PD quando c'è un mondo che va avanti e noi continuiamo con i nostri giochi di potere con le nostre polemiche fini a se stesse con le nostre dichiarazioni in televisione a cui non interessa niente a nessuno quindi io vorrei così con uno slogan lanciare la nostra azione di governo con più politica meno polemica più azione meno contraddizione grazie ringraziamo Francesco e chiamiamo adesso Alfonso Coccoli di Pompei studenti di economia aziendale di Napoli buonasera mi presento sono Alfonso Coccoli è la mia seconda esperienza a Cortona l'anno scorso è stato per me il battesimo politico la prima esperienza davanti a un pubblico numeroso io provengo dalla Campania precisamente dalla città di Pompei una città molto famosa nel mondo Pompei è stata negli anni passati una fonte di imbarazzo per la nazione ogni giorno se ricordate al telegiornale si raccontava di un crollo la svolta arriva nel 2014 con la nomina di Dario Franceschini come ministro dei beni culturali da lì tutto è cambiato ve lo dico che l'ho vissuto dalla città con il sito archeologico più famoso al mondo si è dato inizio ad un forte progetto di rivalutazione di tutto il sito e non solo adesso Pompei ha un vanto per la nazione e ringrazio vivamente il ministro Franceschini per questo lavoro che ha svolto augurandogli un forte in bocca al lupo sicuro del fatto che proseguirà brillantemente il lavoro iniziato dal suo precedente mandato oggi qui oggi qui però sento il dovere e la responsabilità di portare le testimonianze delle problematiche sociali di diverse generazioni di diverse fasce d'età che io rappresento ho tanti amici che dopo aver conseguito il diploma hanno scelto la strada del lavoro mentre altri hanno scelto quella del proseguo degli studi con l'università abbiamo detto che il partito democratico è il primo partito tra i giovani ma cosa c'è da fare per questi ultimi vi racconto ciò che vedo e ciò che vivo ogni giorno vengo da una terra che non offre molte possibilità se puoi permetterti il lusso di continuare gli studi dopo il diploma lo fai sapendo che molto probabilmente alla fine del personale percorso di crescita e di formazione dovrei emigrare per trovare sbocchi lavorativi capaci di soddisfare le ambizioni di progettare la vita e la prospettiva di un futuro stabile e sereno non c'è cosa più brutta per un giovane studiare con la consapevolezza di dover obbligatoriamente alimentare un fenomeno che è troppo poco discusso seguendo i dibattiti nell'aula del Senato della Camera nei giorni caldi delle trattative e nei giorni successivi si sentiva parlare porti chiusi porti aperti difendere i confini ma lo vogliamo capire che il problema dell'Italia il flusso migratorio di cui ci dobbiamo preoccupare non è quello in entrata ma è quello in uscita lo vogliamo capire lo vogliamo dire bisogna affrontare questo tema con un grado di urgenza massimo non c'è tempo da perdere la strada è ancora più in salita per chi invece non ha potuto continuare gli studi vedo ragazzi amici sfruttati senza contratto senza tutele con una paga misera che non ti permette di programmare l'avvenire purtroppo se sei giovane e vuoi lavorare devi accettare queste condizioni oppure te ne stai a casa questo aspetto è parecchio pericoloso oltre che indecente pericoloso perché? perché contemporaneamente la realizzazione di questo scenario si apre una seconda strada una strada alternativa semplice ed immediata sto parlando della camorra come ha detto prima il dottor Franco Roberti la camorra che si insidia tra le disperazioni della povera gente si presenta come uno stato ausilario sono cosciente però del fatto che non è facile quando ci si trova in situazioni di forte disagio resistere ad allettanti proposte economiche anche se di natura illecita ecco uno dei temi che il partito deve affrontare e lo deve fare in maniera celere e decisa lo stato deve essere vicino a chi ha il coraggio l'orgoglio la dignità la coerenza di restare una persona onesta anche in condizioni particolarmente critiche lo dice la nostra costituzione nel terzo articolo adesso non lo cito tutto ma è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del paese ma la costituzione per quanto bella essa sia va applicata e per applicarla serve una classe dirigente brillante autorevole e all'altezza adesso che siamo al governo abbiamo l'opportunità di cambiare le cose sulle spalle di questo partito ora ci sono forti responsabilità non possiamo più deludere io sono molto fiducioso un governo di centro-sinistra progressista ed europeista è la cura giusta per un paese dove negli ultimi periodi è stato diffuso odio e sono state alimentate false paure la sfida che ci attende è ardua insidiosa ricca di ostacoli ci vorrà impegno sensibilità coraggio ce la faremo se lavoreremo tutti insieme rimbocchiamoci le maniche e cito il segretario Zingaretti andiamo a cambiare l'Italia grazie una cosa però voglio dirla uno dei temi principali di questa convention è stato l'ambiente la sostenibilità non voglio adesso parlare di questo argomento perché per parlare in maniera resistiva dovevo concentrare il mio discorso solo su questo però faccio una proposta da domani iniziamo ad eliminare tutte le bottigliette di plastica che abbiamo qui perché se non lo facciamo noi nei nostri appuntamenti politici come possiamo pretendere che lo facciano nelle case grazie 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 alfonso adesso chiamiamo Edoardo Pivanti classe 1990 consigliere comunale e responsabile comunicazione PD Lombardia grazie quando mi è stato chiesto di intervenire di raccontare perché i giovani perché la mia generazione deve tornare a credere nel partito democratico ci ho riflettuto un po' e ho provato a riassumere tutto questo in tre semplici concetti che partono un po' da lontano partono da un anno fa quando eravamo qui a Cortona e il primo concetto che voglio dirvi è quello di ricarica ricarica perché è un evento come questo e come tanti altri che organizzano il partito democratico che sono un'opportunità di discussione per tanti e per tutti anche per chi appunto ha qualche anno in meno e ha un po' di esperienza in meno ma dove si può dire la propria opinione da senso di ricarica ma soprattutto da senso di comunità che è una delle cose che in questo ultimo anno ci ha portato ad allontanarci dal nostro elettorato dal nostro popolo e dalla mia generazione il secondo concetto che voglio ricordare voglio citare è quello di attesa perché rispetto a un anno fa è cambiato il mondo è cambiato il mondo politicamente noi abbiamo scelto probabilmente la via più ardua era facile andare alle elezioni però è altrettanto più difficile probabilmente questa scelta di governare per un semplice motivo abbiamo scelto prima di tutto di non lasciare le istituzioni in mano a gente come Salvini Pilon eccetera e mi chiedo se avessimo permesso di lasciare le istituzioni nelle mani di quei soggetti le istituzioni stesse sarebbero rimaste le stesse nel 2030 la mia generazione una volta diventata adulta avrebbe vissuto nello stesso paese avrebbe vissuto nello stesso modo la nostra Repubblica quindi io sono convinto che questa è stata la scelta più ardua è appunto attesa perché tante speranze non solo il Partito Democratico ripongono e vengono riposte in questo governo nei nostri ministri nei nostri sottosegretari e l'ultima parola che è forse quella un po' più forte e un po' più complessa è fiato ed è quello che chiedo a chi in questo momento riveste ruoli rivestirà ruoli di governo di ruoli politici nei quali potrà incidere veramente date fiato alla mia generazione dateci fiato per poter realizzare le nostre ambizioni le nostre idee le nostre aspirazioni nel nostro paese nel nostro paese ovunque non solo per chi ha avuto la fortuna di nascere a Milano o vicino a Milano come me o a Roma ma ovunque date in tutte le parti d'Italia le stesse opportunità le stesse infrastrutture le stesse possibilità di realizzarsi perché altrimenti in alcune zone veramente l'unica possibilità è quella di scegliere l'unica scelta possibile è quella di andarsene io sono stato fortunato a nascere in provincia di Como a nascere a Varese più che altro e vivere in provincia di Como però non per tutti ci sono queste stesse opportunità dateci questo fiato dateci questo fiato perché quel 2030 che ci ha raccontato questa mattina Giovannini noi ci crediamo noi ci crediamo ancora di più per un semplice motivo è lì che vivremo è lì che andremo a vivere è lì che ci confronteremo con un mondo che è ancora più grande del nostro paese dateci questo fiato è l'unica cosa che come generazione del 90 ormai non si capisce se il 90 fa parte della generazione millennials oppure no ma comunque dateci fiato e sono convinto che se ci ridarete questo fiato alla mia generazione a questa generazione si tornerà in Italia a respirare nuovamente aria buona grazie grazie Edoardo adesso è il turno di Gianfranco Murrone 36 anni assessore al bilancio personale ambiente del comune di Rubiera in provincia di Reggio Emilia eccoci qua buonasera a tutti io io sono il più vecchio tra i giovani che hanno parlato fino adesso quindi non sono poi così così giovane quindi vi chiedo scusa fin da adesso se nonostante l'età già un pochino avanzata non sono abituato alle platee quindi se la voce dovesse tradire un po' d'emozione vi chiedo umilmente perdono la prima cosa che faccio però consentitemi faccio partire il timer perché mi metto 5 minuti giusto? quindi cercherò di stare cercherò di stare nei tempi la prima cosa che faccio però consentitemi un piccolissimo ringraziamento a Chiara Braga che è qui davanti che ci ha sollecitato a dare un contributo a questo tipo di dibattito la ringrazio anche per l'esperienza al Nazareno con cui ci è venuta a dare una mano qualche tempo fa un sincero ringraziamento in bocca al lupo per Marina Sereni chiamata ad un compito arduo importante e chiamo quindi l'applauso di tutti davvero grazie per il contributo di oggi e per quello che darai nei prossimi mesi al Partito Democratico e al Governo e infine anche consentitemelo a Dario Franceschini che a nome di molti e non soltanto di quelli del Partito Democratico è stato oggettivamente il miglior Ministro della Cultura di questo Paese e quindi è degnamente tornato al suo posto mi dispiace che non sia qui davanti ma fategli arrivare il messaggio perché sono convinto di portare la sensibilità di molti rispetto a questo argomento alla luce di questo e fatti i doverosi e sentiti ringraziamenti io sono stato sollecitato ad una discussione insomma un confronto sui temi ambientali io vengo da un territorio un po' particolare vengo da Rubiera un paese in provincia di Reggio Emilia che si trova al centro tra due grandi città Modena e Reggio Emilia e allora l'occasione è troppo ghiotta per non fare un appello a chi è ai vertici del Paese ai vertici del Partito Democratico c'è anche qui Piero Fassino che saluto cordialmente e non come me come il mio sindaco quindi alla periferia del Partito Democratico alla periferia della macchina amministrativa e della macchina politica la bretella Campovagliano da Sassuolo sa da fare la tangenziale di Rubiera che è connessa in quell'opera va fatta perché non è solo una questione di infrastrutture è una questione di salute ancora prima che di rispetto e tutela ambientale un territorio abitato da 15.000 abitanti interconnesso tra Modena e Reggio Emilia con un pil pro capite superiore a 23.000 euro e quindi una cittadina ricca carica di espressioni economiche hanno bisogno di essere interconnesse col mondo economico nel modo più dignitoso possibile e i cittadini che vivono su quel territorio non possono subire il traffico di 25.000 veicoli al giorno e 3.000 veicoli pesanti tutte le mattine inchiodati in via Emilia in un tratto di 15 km da un punto all'altro la battaglia non è solo di Rubiera la battaglia è una battaglia che riguarda il comprensorio Medio Padano e quindi faccio veramente un appello alle rinnovate cariche di governo sedute qui a darci una mano in una battaglia così delicata e così importante che ripeto interessa non solo le questioni strettamente ambientali e infrastrutturali ma specificatamente di salute pubblica è un problema di salute pubblica quindi vi chiedo scusa se mi sono scaldato ma ho fatto l'assessore dei lavori pubblici nella giunta precedente ho il bilancio e l'ambiente il personale dello sport in questa e sono da molti anni come dire seduto a dei tavoli dove tutto sommato continuo a vedere dei rimbalzi commissione costi benefici su opere appaltate insomma siamo alla follia quindi io chiedo sinceramente da questo palco scusate se ne approfitto un impegno serio da parte di chi ha rinnovate cariche di governo all'interno del mio partito in questo nuovo governo in questa nuova esperienza di legislatura questa era la prima cosa che volevo fare che volevo sollecitare perché la sfida ambientale non si vince soltanto con i comportamenti individuali ma anche con i nuovi assetti infrastrutturali un territorio come il nostro e qui vado sul banale che vive in un tessuto pianeggiante e che connette Parma Reggio Emilia Modena e Bologna non può avere un trasporto regionale ancora ancorato nonostante gli importanti investimenti fatti in questi ultimi anni da Stefano Bonaccini abbiamo bisogno di più treni regionali abbiamo bisogno di una connessione intermodale più veloce più efficace più efficiente non possiamo rimanere bloccati in una condizione che non ci consente un'intermodalità vera su territori che sono oggettivamente anche piccoli dal punto di vista dimensionale quindi è necessario che anche il trasporto regionale unitamente alle infrastrutture nuove tipo la richiamata Bretella Campovagliano Sassuolo siano oggettivamente potenziati perché non è possibile vedere macchine in fila con una sola persona capite bene che è una sfida non solo culturale è una sfida infrastrutturale ambientale sanitaria e serve davvero il contributo di tutti perché ha voglia avere le mamme che mi vengono a dire facciamo le iniziative del pulisci e corri a Rubiera è incomiabili è incomiabili a Rubiera siamo partiti con un'iniziativa bellissima perché delle mamme mi hanno sollecitato a fare un'esperienza che avevano vista nei paesi del nord Europa dove le tematiche ambientali sono oggettivamente avanguardia e allora mi hanno detto cosa puoi fare tu per darci una mano ad organizzare un'iniziativa di questo tipo a sollecitare a stuzzicare le associazioni di volontariato a dare un contributo di questo tipo sul territorio sono partite quattro mamme con quattro passeggini oggi ci sono dieci associazioni di volontariato interconnesse tra loro dall'Avis la Croce Rossa l'Auser chiamo mondi parlo di mondi composti da persone che non guadagnano un euro nel dedicare il loro tempo al territorio il volontariato è un bene prezioso che non va disperso e attenzione c'è anche lì un problema di ricambio generazionale non soltanto nella politica c'è anche lì un problema di ricambio generazionale stiamo rischiando di disperdere un patrimonio di energie che se non sollecitato e valorizzato rischia di essere oggettivamente un patrimonio perso per sempre che non si ricostituisce facilmente quindi mi collego solo un attimino e poi mi chiudo rapidamente alla sollecitazione che faceva l'amico di Pompei se non ricordo male di cui adesso mi sfugge il nome e ti chiedo scusa Alfonso le bottiglie di plastica io sono felice e orgoglioso di aver avviato grazie al contributo di molti la campagna plastic free all'interno del mio comune via le bottiglie di plastica all'interno del lente via tutto ciò che è plastica monouso all'interno del mio comune via la plastica monouso dalle scuole primaria infanzia secondaria si può fare si può fare sono nelle condizioni di poterlo fare perché ho un tessuto socio economico che mi dà una mano non sono solo io non devo fare altro che agevolare i processi ma spesso le sollecitazioni mi arrivano dal basso non ho bisogno di inventarmi niente e allora alla luce di questo l'invito che faccio a Dario Marina Chiara tutte le persone che hanno responsabilità ai vertici del partito e di continuare a dare spinta fiato diceva qualcuno alle esperienze che sui territori non sono banali sono esperienze fatte di persone di gente che dedica tempo sacrificio all'attività politica nel senso più nobile del termine e cioè come atto di volontariato civico perché è questo quello che facciamo in centinaia di decine di migliaia di persone in giro per l'Italia e io di questo sono profondamente convinto perché me ne sento come dire la responsabilità e mi sento sinceramente testimone di una politica fatta per bene fatta a disposizione del mio cittadino che viene a bussare e mi dà una mano e mi chiede una mano grazie a tutti per la pazienza grazie Gianfranco gli organizzatori del centro congressi ci tengono a farci sapere che per motivi di sicurezza sono state richieste le bottiglie e bicchieri di plastica ovviamente le prerogative ambientali altrimenti sicuramente saremo stati dotati di altri mezzi chiamo adesso Alessio Pecoraro preco presidente di fondazione ora e anche co fondatore di fondazione ora buonasera a tutti non parlerò di governo come hanno fatto molti di quelli che mi hanno preceduto e mi limito a fare gli auguri a chi di questo governo farà parte al ministro Franceschini e poi per tutti Francesca Puglisi e Marina Sereni che vedo qua una di fianco a me e una di fronte a me mi ha fatto piacere che negli interventi che mi hanno preceduto molti ragazzi e ragazze non abbiano parlato strettamente di Partito Democratico il focus di questa sera nello spazio gentilmente concesso doveva doveva avere come centro il Partito Democratico e la nuova indagine Utrend Quorum che lo vede di nuovo apprezzato tra i giovanissimi le ultime elezioni quelle del 4 marzo scorso avevano registrato un forte scollamento tra le nuove generazioni e il Partito Democratico vedendo queste queste ultime preferire un soggetto politico come il Movimento 5 Stelle ovviamente dopo dopo questo periodo dopo un anno anche dall'ultima cortona dove mi ricordo che proprio da questo palco citai Baricco dicendo sono arrivati i barbari e citando Baricco dissi non è il momento di combatterli i barbari non è il momento di chiuderci non è il momento di arretrare ma è il momento di starlo a guardare questo cambiamento pensare e capire come superare questo momento e fare qualcosa di nuovo ovviamente anche grazie alle intuizioni di molti che sono qua di molti che appartengono alla comunità politica di Ariadem oggi stiamo raccontando un mondo diverso un mondo nuovo e in questo mondo nuovo ci stanno con piena cittadinanza e con piena voglia di esserci i giovani i giovani non solo i giovanissimi ma anche la generazione dei 30-40 anni che come avete visto negli interventi che mi hanno preceduto parlano di tematiche quindi non solo di partito non solo di questioni interne come spesso da iscritto del Partito Democratico siamo stati costretti ad ascoltare infinite riunioni ed infiniti momenti a parlare di assetti tattiche alleanze ma di temi dal tema ambientale dal tema del lavoro dal tema della mobilità siamo la generazione che più di altri si è mossa ed è stata costretta a muoversi per i piani di studio Erasmus siamo la generazione che ha volato con i voli low cost da un capo all'altro dell'Europa e quindi siamo una generazione che ha vissuto l'Europa e quindi un europeismo che non è solo facciata o qualcosa studiata sui banchi di scuola ma è un europeismo di fatto un europeismo da difendere come generazione e quindi per far sì che un sondaggio di agosto non sia solo una chimera ma continua ad essere un trend positivo e quindi sempre più giovani e sempre più quella generazione alla quale secondo me come Partito Democratico dobbiamo parlare che è quella dei 30-40 anni chi è uscito dal ciclo di studi e cerca lavoro cerca una stabilità lavorativa chi prova a mettere su famiglia chi prova ad acquistare una casa chi vive quotidianamente magari la difficoltà di fare impresa e anche la difficoltà di accesso al credito cosa deve fare il Partito Democratico per continuare ad essere attrattivo verso queste persone secondo me la prima cosa da fare è essere aperto essere finalmente un partito aperto ed accogliente che ascolta le persone quindi quello che ha detto Marta prima mi immagino un Partito Democratico che vada in casa delle persone come ha raccontato Marta la gioia di questi ragazzi di vedere che la politica non è solo quella in accezione totalmente negativa ma che i politici sono persone che come diceva un prete fiorentino Don Milani il mio problema è uguale al tuo sortirne da soli e la varizza sortirne insieme la politica e quindi tornare ad essere questo un partito di prossimità un partito che sta nei territori e dai territori prende le energie migliori e non le mortifica un partito che è capace di scommettere io ringrazio moltissimo Marina Sereni con la quale parlo spesso per questo spazio e quindi vorrei un partito che faccia come ha fatto Aria Dem questa sera che abbia il coraggio di far esprimere i giovani anche senza rete molti di noi sono venuti qua senza dire prima quello che avrebbero detto e quindi questa comunità politica è una comunità che si è fidata allora la fiducia secondo me è un elemento che spesso sono i politici a chiederla e come generazione invece questa sera da questo palco voglio chiedere a voi politici fidatevi abbiate fiducia di noi e quindi ero partito prima grazie ero partito prima citando Baricco e chiudo così i barbari sono arrivati sono passati ma non se ne sono andati quindi oggi noi qui come comunità politica come area dem e come comunità politica più allargata del partito democratico stiamo festeggiando comunque una normalizzazione già parlavo con un amico venendo qua si respira un'aria nuova abbiamo detto rispetto a l'ultima estate quella che comunemente è stata definita del papete io vengo dalle Emilia Romagna e sono almeno 20 anni che faccio le vacanze a Milano Marittima quindi ovviamente gli è stata data questa accezione negativa a quest'estate ma sicuramente è un posto come un altro comunque dopo quest'estate del papete e del mojito si respira un'aria nuova ma la sfida non è finita dobbiamo stare ancora in trincea e a lavorare ognuno per il suo ruolo e ognuno per la responsabilità un traguardo su tutti oltre a quelli nazionali che conoscete bene conoscete meglio di me e hanno parlato chi mi ha preceduto noi in Emilia Romagna abbiamo una sfida che sono le nostre elezioni regionali è una regione nella quale la Lega spera di fare il colpaccio come aveva detto lo stesso Salvini all'indomani delle europee abbiamo un'esperienza di governo meravigliosa secondo me quella attuale in Emilia Romagna abbiamo un tessuto che come ha ricordato Gianfranco prima vivo e vitale che va messo assolutamente in connessione e va fatto esprimere e quindi dalla periferia appunto a una platea così importante e così nazionale vi saluto dicendo mettiamoci in cammino e mettiamoci al lavoro grazie grazie Alessio adesso il turno di Lapo Secciani 37 anni imprenditore e presidente di CNA Sassuolo buonasera a tutte buonasera a tutti io ringrazio innanzitutto Area Dem perché momenti come questo dove ci possiamo confrontare sono estremamente importanti e per cui ho deciso di togliere del tempo alle mie aziende e al mio lavoro ai collaboratori per venire qui a portare il mio contributo ringrazio Fondazione Ora perché mi ha chiamato a parlare in questo spazio dedicato ai giovani ma io non mi sento più tanto così giovane dopo 15 anni di lavoro di duro lavoro e ringrazio i deputati che sono qui ora ad ascoltare i contributi di giovani di giovanissimi donne e ragazzi che con passione e con coraggio hanno sfidato questo palco per dire le loro idee grazie davvero è importante avere momenti come questi dove potersi confrontare e discutere è importante farlo perché la situazione socio-economica che viviamo è complessa abbiamo una sfida globale dove il nostro modello imprenditoriale quello italiano fatto dell'impresa familiare fa fatica ad affrontare viviamo di rapidi e continui mutamenti che rendono difficile fare piani di impresa oltre i sei mesi di tempo sono crollate quelle che erano tutte le certezze e convinzioni che fino a ora ci hanno accompagnato e soprattutto l'avvento dei social ha cambiato completamente il modo di dialogare ma peggio ancora non abbiamo educatori preparati a formare i giovani a una cultura digitale questa situazione di confusione ha creato dei nuovi spazi politici e a livello economico e culturale ha dato il via a una crisi i lavoratori gli artigiani gli imprenditori e professionisti in questo momento hanno deciso di rifugiarsi nel loro porto sicuro nel lavoro si sono chiusi in se stessi hanno abbassato la testa e hanno lavorato sperando che domani quando avrebbero rialzato la testa avrebbero trovato una situazione diversa ma come molti amici che fanno politica di professione mi dicono che in politica gli spazi vuoti vanno occupati quindi mentre chi lavorava il cuore pulsante del saper fare italiano teneva la testa chi ne lavorava qualcun altro ha occupato quegli spazi che si sono creati e hanno distrutto il futuro di noi giovani per garantirsi un loro misero presente io credo che come imprenditori come giovani dobbiamo dire basta a tutto questo credo che come imprenditori dobbiamo farci carico del nostro ruolo sociale e iniziare a giocare questa partita perché queste persone stanno vincendo la partita solo ed esclusivamente perché noi ancora non abbiamo deciso di giocare quella partita e sono convinto che un'area riformista debba essere capace di creare quell'opportunità quella generazione di 30-40 anni di fare loro le scelte che incideranno sul prossimo futuro quel futuro dove loro costruiranno il loro lavoro le loro famiglie faranno crescere i loro figli lo schieramento riformista ha all'interno le competenze la storia la storia le capacità le donne e gli uomini per fare tutto questo deve solo trovare il coraggio e l'umiltà di fare spazio e di fare un passo al lato per fare entrare e dare le opportunità a tutte queste trentenni quarantenni a questi giovani a queste giovani io ci credo io credo veramente che insieme costruendo un clima di contaminazione tra generazioni tra esperienze tra competenze possiamo finalmente dare vita a una stagione del saper fare dove si propongano politiche utili alle volte anche dolorose e dove non si insegue il consenso io sono fermamente convinto che la politica debba guidare non inseguire ed è per questo che la prima cosa da fare deve essere quella di ridurre il rapporto del deficit debito-pil mantenendo lo stato sociale bisogna continuare a investire nella scuola bisogna continuare a investire nella sanità bisogna lottare seriamente non con le parole non gridando onestà 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 la corruzione e l'evasione fiscale perché bisogna ricordarsi e ce lo dobbiamo ricordare innanzitutto noi imprenditori che in uno stato sociale in un paese ci sono prima i doveri dei diritti quanto al lavoro che credo che sia la forma più importante per determinare la cittadinanza delle persone è necessario ridurre la forbice tra il costo lordo e lo stipendio netto è evidente è importante investire nel talento e rafforzare l'alternanza scuola lavoro per poter sviluppare quelle soft skill che in una situazione economica come quella attuale sono molto molto importanti e determinanti per avere successo nel mondo del lavoro occorre ovviamente ridurre la burocrazia fortuna vuole che questa ondata digitale se gestita sotto un ambito di cultura potrebbe essere lo strumento giusto per rendere più facile la vita a chi decide di fare imprese ma per dare l'opportunità ai giovani di fare imprese e di lavorare noi dobbiamo investire nel talento dobbiamo investire nella competenza e nella voglia di fare dobbiamo avere il coraggio di ripartire dalla parte sana del paese io sono assolutamente contrario al reddito di cittadinanza e non lo sono al contrario solamente io insieme a me ci sono 2030 imprenditori della provincia di Modena che considerano il reddito di cittadinanza una zavorra per tutti i giovani che vogliano fare impresa perché si dice stai a casa sul divano invece di farti il mazzo e prova a mettere in piedi una tua impresa ed è per questo che come giovani imprenditori noi abbiamo portato avanti una proposta che abbiamo già sottoposto a Francesca che abbiamo portato durante la campagna delle primarie di Zingaretti a Bologna che è Accelerazione Italia non vi tederò molto su questa proposta si tratta semplicemente di un'idea di investire e sviluppare quelle che sono le giovani imprese con strumenti economici finanziari e valorizzare le imprese virtuose attraverso di fiscalizzazioni selezionandole per quanto riguarda i giovani sul tasso di occupazione e di crescita delle imprese la penetrazione dei nuovi mercati e il livello di crescita nei futuri anni per quanto riguarda invece le aziende virtuose andiamo ad analizzare quelli che sono i livelli di parità salariale la responsabilità sociale che fanno le imprese il welfare che viene fatto all'interno delle aziende le politiche green che fanno e gli adempimenti perché è importante che le imprese adempino ai loro doveri questi criteri oggettivi li può analizzare tranquillamente l'agenzia delle entrate e così trasformeremo da ente riscorsore a ente premiatore Accelerazione Italia per noi è la voglia di scommettere sul fare e io chiudo dicendo e auspicando che questo nuovo governo e soprattutto il PD come partito che rappresenta al meglio l'area riformista decide veramente di investire sul merito sul talento sulla voglia di fare e soprattutto sulla competenza dando spazio e avendo fiducia come diceva Alessio Pecorari in quella generazione di 30-40 anni che hanno vissuto e stanno vivendo sulla loro pelle le difficoltà di una situazione veramente complessa grazie 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 Lapo chiamiamo adesso Gioele Risaliti 30 anni ex vice sindaco di Impruneta qua in provincia di Firenze e dal 2018 il presidente della più antica Fiera Mercantile d'Europa Gioele è il penultimo intervento quindi ancora un paio di interventi cercherò di essere anche breve per aiutare diciamo l'avvicinarsi della scena grazie intanto voglio ringraziare tutti della possibilità di potermi esprimere io ho svolto un compito amministrativo per tre anni ho avuto questa fortuna un piccolo comune di provincia mi sono accorto di una di una grave mancanza ci mancava un rapporto serio e costruttivo con la città ci mancava la capacità di intercettare i giovani di riuscire a tenerli sul territorio di non disperdere tutte le nostre energie formate anche attraverso le nostre università Firenze ha alcune eccellenze che sono andate via io facevo questa riflessione mi sono guardato intorno ho cercato alcuni miei amici e sono a Milano quelli più vicini gli altri sono in Spagna sono in Francia questo perché qua non riescono a trovare un posto di lavoro io credo che si debba cercare di ricostruire una comunità che si debba rimettere in positivo quello che le grandi città hanno costruito in questi anni percorsi di valorizzazione culturale e cercare di estenderli anche al tessuto delle città vicine che sta morendo una necrosi che ormai è qualche anno che si sta verificando non ho altro da aggiungere voglio essere velocissimo sinceramente però mi ha dato grande speranza ed ho accettato di essere qui perché questo governo sicuramente non sarà il migliore del mondo però può dare una visione nuova abbiamo l'opportunità dopo 20 anni di fare quel cambiamento che abbiamo sempre richiesto se non lo facciamo questa volta però non ci presenteremo forse più a nessuna delle prossime elezioni buona serata a tutti grazie Gioele ultimo ma non per importanza Pietro Cortenova studente della facoltà di storia di Bologna ha frequentato anche scuole di politica e ci porterà un lavoro sul riformismo sfrutto di un evento di fondazione ora di quasi un anno fa buona serata a tutti grazie di aver atteso fino a questo momento sono veramente contentissimo di poter essere di nuovo qui quest'anno e in realtà mi sono preso la libertà di condividere con voi alcune riflessioni potrei dire sui massimi sistemi ma credo che fosse interessante potrebbe essere interessante almeno lo spero guardare alla questione del coinvolgimento e del intercettamento delle generazioni più giovani da parte del nostro partito nel momento in cui dobbiamo andare a sviluppare pratiche retoriche che possano coinvolgerlo che possano in realtà portarlo a una costruzione di consenso che noi sentiamo in questo momento essere necessaria ed essere soprattutto un'opportunità infatti io credo che la bontà delle relazioni che il partito intrattiene con i giovani siano una misura della sua comprensione della realtà attuale e non mi riferisco alla predisposizione di misure di sostenibilità per le generazioni future che sono una responsabilità e che dovrebbero trascendere la possibilità di farle comprendere a coloro che saranno i diretti interessati dei suoi dei benefici che porteranno di conseguenza credo che il rapporto intimo che viene a generarsi tra un'ampia generazione dei più giovani potremmo dire e il partito riguardi sostanzialmente una questione di fiducia una questione che non riguarda soltanto la scarsezza di fiducia verso il nostro partito anzi riguarda tutta la politica e ad essere onesti anche le istituzioni io mi sono chiesto semplicemente quale possa essere la ragione per la quale è stato ritenuto meno interessante diciamo meno appetibile quel segmento dove è nato il mito della sua inutilità o persino della sua tossicità credo che abbia le sue radici in una generale vaga convinzione per la quale i giovani sarebbero superficiali apatici vagamente ignoranti delle questioni veramente importanti e che anzi l'investimento che viene fatto in termini di energia a tempo e credibilità sul loro segmento non sia ripagato anche di fronte a un eventuale successo dal numero piuttosto esiguo delle generazioni più giovani quindi in sintesi non riguarda come dire un problema di fidelizzazione del segmento più giovane verso altre altre forme di attivismo politico ma riguarda sostanzialmente la convinzione che non possa essere non possa essere un ritorno di rimente tra il successo e il fallimento di questo partito ecco io in realtà chiedo che cosa c'è di veramente diverso nell'atteggiamento che rivolgiamo ai giovani e quello che abbiamo rivolto tutta la politica italiana per lungo tempo all'interezza della cittadinanza a tutti gli italiani che si ritenevano forse un po' troppo infanti quindi un po' troppo giovani un po' troppo ingenui un po' troppo suscettibili alle fascinazioni dei leader un po' troppo entusiasti di fronte all'ipersemplificazione dei fatti un po' troppo sensazionalisti di conseguenza abbiamo deciso che era un loro difetto era un problema di prospettiva guardavano le cose in maniera sbagliata probabilmente drogati alterati da una forma di comunicazione nuova deleteria e che di conseguenza non fosse una lotta spendibile nell'immediato credo che dobbiamo segnare una distanza dagli altri e renderci conto che quella distanza sarà proprio la ragione del nostro vantaggio penso che questo partito possa conquistare l'attenzione il rispetto e di conseguenza il voto dei giovani ovviamente di tutti gli altri italiani di tantissimi italiani dimostrando di essere i primi per fiducia che ripongono nelle persone questo come dovrebbe essere realizzato con una rivoluzione della comunicazione e della presenza materiale e immateriale del partito nel paese ecco il segretario di questo partito pronunciò in questo luogo esattamente a questo pulpito un anno fa le parole voglio un partito che sia migliore sul territorio e voglio un partito che sia il migliore sul web quindi come risposta come la risposta del nuovo governo all'obsolescenza di questo paese sarà maggiori migliori formazioni istruzione educazione così la lotta del partito per il consenso dovrà essere una lotta d'avanguardia giocata d'anticipo nei circoli e nelle molte occasioni di incontro che dovranno essere organizzate e in queste occasioni non dovremmo uspicare ritrovo di clac e autocelebrative ma organizzare conferenze e convegni con intellettuali e le parti sociali creare legami e riconoscimento reciproco tra gruppi ovvero quella condivisione delle sfide la cui comprensione io credo sia la precondizione a un'azione unitaria alla sedimentazione di un consenso che sia coerente e sia uniforme in grado di superare le differenze di classe il livello di istruzione e la provenienza geografica quello che serve è un grande partito un partito tenda un partito interclasse che abbia delle aspirazioni maggioritarie nazionali che condivida la ricerca del consenso con la sopravvivenza di quel consenso una volta che si sia generato ecco il partito democratico io credo possa investire molto più semplicemente su tutta un'altra aspettativa di quello che gli italiani chiedono a un partito lo possiamo fare perché è un'occasione anche di ricollocamento rispetto all'offerta politica del momento per distinguerci perché io credo che già tutta la parte più responsabile e più mobilitata del paese guardi a questo partito come l'arena di riferimento quella nella quale si giocano gli equilibri determinanti per la leadership del progressismo italiano volevo chiudere su questo giusto perché è stato un tema di precedenti conversazioni che cosa sia il progressismo che cosa sia il riformismo perché debbano essere utili perché e se esistono in Italia e dovrebbero esistere ecco io credo che noi non possiamo aspettarci che questi sopravvivano questi lemmi politici questa grammatica politica sopravviva di per sé ve ne sia sempre bisogno questa va alimentata va gestita per ottenere determinati risultati raggiungimenti questo è un paese che si trova in una grave difficoltà storica dal punto di vista economico in particolar modo ma della coesione sociale civile e di conseguenza un grande processo riformista serve a riportarlo nel suo alveo nell'alveo della tradizione occidentale come potenza economica come stabilità politica e questo deve essere affidato sostanzialmente alla presa di consapevolezza della necessità di allargare il consenso per un movimento riformista che chiudo su questo serve semplicemente per raccogliere con determinazione quelle che riconosciamo essere le sfide del paese e individuare anche dolorosamente anche davanti a successive numerose sconfitte possiamo ammetterlo la strada che un giorno si rivelerà la più corretta per superare le difficoltà che abbiamo incontrato io avevo individuato alcune parole che volevo condividere con voi prima di salutarci sono quelle che presagivano a un momento io credo che sarebbe potuto essere che Eralt è stato particolarmente riformatore per la storia d'Italia e credo che sia un po' il modello l'archetipo di tutte le successive intese veramente riformatrici che possano creare un consenso numericamente qualitativamente sufficiente a trasformare questo paese e questa è la citazione la seguente la gravità dei problemi del paese le minacce sempre incombenti di avventure reazionarie e la necessità di aprire finalmente la nazione una sicura via di sviluppo economico di rinnovamento sociale e di progresso democratico rendono sempre più urgente che si giunga a quello che può essere definito il nuovo grande compromesso storico di conseguenza ringrazio per quel che vale il partito i suoi rappresentanti dalla segreteria possiamo dire oggi i ruoli di governo per aver tentato una strada io credo che il partito democratico per continuare la battaglia che oggi ha preso queste forme debba semplicemente tornare nel paese tornare a fare istruzione a fare cultura in modo che non sia più considerata come il portato dell'elite ma come la naturale il naturale legame che unisce tutti gli italiani in un tessuto veramente reattivo veramente energico per risolvere i nostri problemi grazie a tutti grazie Pietro grazie a tutti voi per essere rimasti qui fino a questo momento si ricomincia domani mattina alle 9.30 con se volete vi dico alle 9 ma poi non ci siete quindi facciamo le 9.30 vere con l'intervento di Piero Fassino sull'Europa a domattina grazie a tutti